segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te era mattarella invitato lì che parla con recato terzo chissà che si sono detti magari poter ascoltare cosa ha detto possiamo possiamo noi l'abbiamo fatto noi possiamo ma chi ve l'ha fatto fa ma io mi ammazzo prima ma per l'amore di ogni volta era invitato da novembre e si incazza pure si è messo pure a piove apri un po l'alettone giacomino e lorenzo dove stanno pure mi hanno promesso che non veniva ma guardi quei cappellini che sono simpatici come per i zombo non metto alla fine